Benvenuti al canale Cagliari News, la vostra fonte di notizie calcistiche. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere le novità del Cagliari. Tommaso Augello, esterno difensivo del Cagliari, ha così parlato del suo attuale allenatore in rosso-blu Claudio Ranieri con cui ha condiviso anche l'esperienza alla Sampdoria. Le sue parole all'Unione Sarda. Da un paio d'anni, da quando era andato via il mister Ranieri, si faceva fatica. È stata una retrocessione inaspettata, anche se poi gli indizi c'erano tutti. So che ogni esperienza serve a crescere, ma spero di non rivivere più una cosa simile. Avevamo solo tre punti dopo sette gare, lui è arrivato e, con calma e sicurezza, ci ha convinto che ci saremmo ripresi. La sua forza è stata costruire prima il gruppo e poi la squadra in campo. Ciao tifoso rosso-blu, sei soddisfatto del lavoro del signor Ranieri? Lascia la tua opinione nei commenti, perché è molto importante per il Cagliari.